Salve e bentornati. Il tema a cui proveremo ad accennare oggi è l'antisemitismo online. Un tema ovviamente enorme. A volte accade che alcuni prendano dei modestissimi contributi come delle prolusioni finali su un tema. Non è così. Questi contributi sono semplicemente un modo per indirizzare l'attenzione e magari imitare o invogliare, si spera, un approfondimento sui temi. Dunque l'antisemitismo è per sé un tema che purtroppo ha avvolto per lungo tempo le categorie della storia. Dunque è un tema su cui a dispetto della enorme letteratura in proposito continua a rimanere uno degli incomprensibili della storia. Non è davvero possibile avere una spiegazione unica per un tema che coinvolge epoche, popoli completamente diversi tra loro. Soprattutto non è possibile soltanto una spiegazione che sia sociologica e non una spiegazione che sia al tempo stesso anche filosofica, che sia anche teologica se vogliamo che sia anche psicologica. Infatti io preferisco la dicitura di giudeofobia più che antisemitismo. Quello che però colpisce è la differenza che vi è come in tantissime cose tra il dibattito ufficiale, quello che appunto si legge sulle solite gazzette, quello che si vede nelle televisioni, che poi sono gli strumenti più forti, più intensi, più radicali con cui vengono indirizzate le società e da cui la gran parte dei cittadini traggono le loro informazioni o la loro visione del mondo. Questo già dovrebbe far capire lo spostamento che è avvenuto tra l'informazione e l'indottrinamento. Perché vedete, io dico spessissimo gazzettieri invece di giornalisti. Perché? Perché la differenza tra un giornalista ed un gazzettiere consiste nel fatto che il primo riporta delle notizie, mentre il secondo si ritiene un maestrino della società e pretende di insegnare ai lettori o ai cittadini come interpretare, pensare e a volte persino come parlare, inventando come abbiamo visto il neologismo, il sovranismo, uno tra questi, oppure divieti linguistici come quelli che fanno parte di questo ennesimo assurdo discorso della modernità sul politicamente corretto. Un moralismo censorio è dunque uno strumento politico utilizzato per mettere a tacere o per impedire la libertà di parola. Infatti il grosso problema è che il fondamento del politicamente corretto è, diciamo, morale. È dunque un modo per pretendere di sapere cose che non si sanno, perché la morale è, come ben sappiamo, è un tema grandemente dibattuto ed è un tema in cui non si possono trarre delle conclusioni univoche. Dunque è un pretendere di sapere cose che non si sanno. Poi, personalmente, dico, se nel discorso sulla politically correctness, sul politicamente corretto, si prova sempre ad inserire la soggettività o la sensibilità soggettiva a quale categoria del discorso. In America, ad esempio, c'è la microaggressione. Una volta, una volta, c'è una frase inglese perfettamente corretta, perfettamente innocua, che dice You look good today. Appari bene, insomma, ti vedo bene oggi. Che non si può, anche questa, secondo questa, questo, questo, questo... Non voglio dire fascismo, voglio dire questo discorso scombinato, quest'ideologia scombinata, quest'ideologia politica da quattro soldi, non si potrebbe dire perché se tu hai un bel aspetto oggi, significa che ieri non ce l'avevi, allora questo rientra nelle categorie della microaggressività. Cioè, ormai, il delirio è più completo. Ma, al di là del... siamo sempre lì. Se però noi grattiamo la facciata di questo delirio, di questa cosa, in cui le persone più shock, più incapaci di pensiero, si gettano e cominciano a fare discorsi definitivi e ultimativi sulla natura del reale, della conversazione degli individui, di tutto di più. Però se noi grattiamo, che cosa c'è di nuovo dietro questo discorso sostenuto, appunto, dall'ideologia collettiva, dalla stampa, eccetera, eccetera? E, come abbiamo detto, lo spostamento del discorso sulla soggettività è semplicemente l'ennesimo ritorno della sofistica. Ricordate? Protagora di Abdera. L'uomo, in quanto tale, è misura di tutte le cose, di quelle che sono e di quelle che non sono. A cui, appunto, Platone risponde meravigliosamente. Però Protagora dice, se io ritengo che questa bevanda è salata, o questo cibo è salato e questa bevanda è dolce, questo cibo è salato e questa bevanda è dolce. Platone dice, sì, ma un altro, che magari può essere malato, che può avere la febbre, può ritenere quella dolce e l'altra salata, o quella meno dolce e quella meno salata. E proprio questo è il tema della sofistica, ridurre alla soggettività per fomentare il relativismo. Dunque, se tu mi dici oggi hai un bel aspetto, se io mi offendo, perché ritengo che qualcuno che mi dica hai un bel aspetto mi stia dicendo invece che ieri non ce l'avevo, il problema non è mio, non è della mia soggettività, della mia interpretazione errata, perché oggi non esiste più questo discorso. Oggi si può dire giusto o sbagliato soltanto in termini due più due fa quattro o non fa quattro. Vedete com'è? Che disastro, che disastro, veramente. Insomma, penso che il discorso non sia così difficile da seguire se uno ha l'apertura mentale per seguirlo. Poi ci sono invece quelli che dell'apertura fanno chiusura, della chiusura fanno apertura, e lì non è neanche il caso di argomentare. Comunque, il politicamente corretto è uno dei tanti modi attraverso cui è possibile introdurre qualunque sensazione soggettiva nel discorso dandole una parvenza di oggettività, una pretesa di oggettività che invece non possiede. In tutto questo i gazzettieri, l'apparato di condizionamento, sono grandi maestri. Sono grandi maestri perché non hanno una resistenza come abbiamo già ribadito altrove. Perché non c'è una resistenza culturale che possa dire guardate che non è così. Oggi la Chiesa di fronte a Galilei avrebbe un trionfo assoluto perché avendo il controllo dei mezzi di diffusione dell'opinione potrebbe creare qualunque modello di mondo. Dunque la Terra sarebbe ancora al centro dell'universo. Galilei, il discorso di Galilei si poteva imporre lungo tempo dopo perché c'era una cultura dall'altra parte che diceva eppur si muove. Galilei apparentemente non la disse questa frase che gli viene attribuita. Però esemplifica molto bene il discorso per questo io la ripeto spesso. Esemplifica il discorso di coloro che di fronte alla pletora di messaggi di sciocchezze di ideologie che vogliono dirti è così dicono no eppur si muove. Non è così. Potremmo dire ci sono tanti altri esempi potremmo dire il re nudo ad esempio come nella storia nella favola. Anyway lunga premessa ma necessaria per capire anche perché vi sia questa immagine pubblica di un mondo di una realtà in cui non c'è l'antisemitismo non esiste o se esce fuori esce fuori nell'atto singolo di quello che attacca la sinagoga di quello che distrugge le lapidi come per voler indicare il fatto isolato di un matto che da qualche parte fa una cosa una cosa folle però dal discorso pubblico questo è stato non c'è l'antisemitismo appare come un fatto dimenticato un retaggio del passato invece basta avere accesso ad un qualunque discorso online per accorgersi di quanto l'antisemitismo sia vivo vivo e come anzi la 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 presenza la la possibilità di mettere un messaggio in un'arena pubblica come quella come quella online fomenta i discorsi come sappiamo i discorsi più assurdi che vanno dalla terra piatta fino appunto ai discorsi sui protocolli sull'antisemitismo eccetera questo ha in molti modi come sempre vorrei lo dico viene utilizzato dall'apparato ideologico dominante dicendo ah su internet si trova tutto si trova tutto il contrario di tutto è vero però bisognerebbe fare un discorso ulteriore vuol dire si trova tanto il brutto tanto il male quanto il bene la il merito sta in chi è ancora in grado di avere un giudizio autonomo e di discernere tra ciò che è assurdo e ciò che invece ha un senso questo non viene detto perché non si vuole neanche neanche lontanamente invitare le persone al ragionamento alla scelta è l'individuo che deve deve fare una scelta è l'individuo che deve provare a ragionare tu vuoi ragionare vuoi vuoi gettarti nel terrapiattismo problema tuo ma è il problema non è l'offerta il problema è chi si aggrega ad un'offerta o un'altra per l'antisemitismo questo discorso vale in maniera lapalissiana vedete l'antisemitismo che in passato aveva una dimensione fortemente religiosa però è chiaro che c'era anche un aspetto politico oggi però si è spostato per intero alla politica anzi non è difficile oggi trovare delle delle persone voi direte l'antisemitismo è un fatto di di destra non è così una delle grandi trasformazioni i discorsi online lo fanno vedere benissimo così come anche certi discorsi politici una delle grandi trasformazioni che sono avvenute sul tema dell'antisemitismo è che mentre fino ad un certo periodo in una determinata epoca della storia era un fenomeno di destra dopo guerra l'antisemitismo è diventato anche un fenomeno di sinistra mantenendo queste grandi categorie che non significano poi così tanto però è un modo che le persone utilizzano per identificare queste direzioni politiche ora è anzi oggi più facile trovare un antisemita che si trovi a sinistra paradossalmente che non un antisemita che si trovi a destra tranne nei forum online dove appunto c'è quella minoranza rumorosa che ovunque fa dei discorsi senza ragionarci sopra ovviamente l'antisemitismo di sinistra opera attraverso una traslazione non è più l'ebreo ma è lo stato di Israele e infatti voglio inserire in questo discorso la presentazione di un introduzione di un libro meraviglioso in proposito scritto da Joshua Muravchik un americano e che ha scritto questo testo dal titolo Trasformare Davide in Golia come il mondo si è spostato contro Israele è un libro davvero affascinante perché come sempre attraverso la forza dell'agionamento dell'argomentazione mostra come questo apparato ideologico si sia rivolto contro lo stato più piccolo Davide circondato l'unico stato democratico di quella regione attraverso appunto la propaganda i soliti discorsi quelli i buoni le anime belle le anime belle che propagano l'antisemitismo che propagano queste cose in difesa però in difesa degli indifesi anzi in difesa di popoli immaginari voi pensate una cosa questo risulterà per molti nuovo strano mai sentito oggi è diventato normale nel discorso ovunque parlare di palestinesi di stato palestinese eccetera ma guardate solo un'epoca come la nostra può essere capace di inventare un popolo soltanto un'epoca di questo tipo può riuscire a fare cose di questo genere i palestinesi come popolo non esistono è una pura invenzione della modernità infatti fino agli anni fino alla fine degli anni 40 i palestinesi stessi non esisteva il termine poi c'è anche una famosa intervista ad un giornale olandese in cui il vice di Arafat disse noi siamo arabi utilizziamo questo termine perché è più comodo perché è facile anche a più parvi delle rivendicazioni politiche ma i palestinesi sono praticamente arabi della zona Arafat ad esempio era egiziano sarebbe come dire faccio un esempio in modo che ci capiamo un po' meglio speriamo se io prendo un po' di calabresi un po' di siciliani un po' di campani un po' di veneti un po' di lombardi un po' di piemontesi li metto insieme li porto in una regione X in una zona limitrofa della Jugoslavia ecco dell'ex Jugoslavia li metto tutti lì e d'un tratto questi dicono noi siamo dei pugliesi noi siamo campugliesi e diventano un popolo nuovo si inventano un'etichetta e dicono noi siamo un nuovo popolo se no voi siete italiani siete campani no siamo un popolo nuovo poi avviene tutto l'apparato mediatico eccetera persino il nome e se non fosse così tragico sarebbe ridicolo troppo è tragico perché c'è appunto poi c'è un dominio della violenza c'è tutta una una politica internazionale dietro che supera che supera lo sconcio ma ci sono lo stesso nome dicevo palestinesi noi chiamiamo questo popolo dal nome con cui i romani chiamavano quell'area del mondo i romani mica definivano non c'erano neppure gli arabi non esistevano le popolazioni arabi dunque non potevano chiamare una popolazione che non esiste infatti oggi noi non non chiamiamo gerusalemme Enea Capitolina o mi sbaglio però se qualcuno magari domani nel mezzo di questa immensa confusione volesse dire si chiama Enea Capitolina noi siamo gli Eneo Capitolini e lì incominciamo di nuovo incominciamo di nuovo la bagarre ovviamente i libri che parlano i libri che spiegano purtroppo non vanno da nessuna parte perché lo sragionamento è più facile sempre più facile l'immaginazione raggiunge appunto i terrapiattisti perché a me interessano questi fenomeni estremi perché da questi fenomeni estremi poi si capiscono anche gli altri si capisce di più la politica ad esempio arrivare con l'immaginazione dove non si arriva con la realtà ora l'antisemitismo online diventa facile perché basta una tastiera basta un nome finto e cominciare a vomitare qualunque sciocchezza qualunque cosa che passa per la mente qualunque immaginazione con la quale si vuole sostituire la realtà tempo fa venne fatto un documentario a new york da non ricordo più come si chiamava e intervistava le persone per strada era l'epoca in cui giuliani era il sindaco di new york rudolf giuliani il adesso insomma infausto consigliere di trump eccetera individuo discutibilissimo però giuliani è un americano italiano americano di origine italiana giuliani quando questo signore faceva le interviste per strada c'erano alcuni in certe zone del ghetto che dicevano anche il nostro il sindaco è ebreo e quindi dicevano ma in che senso è ebreo e lui diceva his name is giuliani perché in inglese la g i u italiana si pronuncia come e a fine la pronuncia è simile alla j e w di ebreo giuliani loro trasformavano l'assonanza linguistica con un nome ebraico ora voi direte questa è una cosa un piccolo evento di uno sciocco da qualche parte non è così a tal punto che i discorsi online sull'ebraismo sono in gran parte discorsi di questo genere molto spesso ci sono argomenti a dominem ad esempio questo è uno degli argomenti se ci sono alcuni che fanno un discorso probabilmente anche in questo in questo video arriveranno commenti scombinati di questo genere e se uno fa un discorso su un tema appunto come l'antisemitismo su israel eccetera il primo attacco è a dominem su questo libro ad esempio i soliti le anime belle diranno ah ma muravchik è un nome ebraico sarà pure joshua murach ma questo che significa come dire se io vado se a me adesso mi fanno un'intervista e mi chiedono qualcosa sull'Italia e mi chiedono di parlare dell'arte italiana io dirò cose bellissime ma lo dico perché sono italiano o perché l'arte italiana è bellissima se io parlo di Michelangelo lo sto dicendo perché sono italiano che è bello oppure perché è bello che influenza ha il fatto se poi uno mi chiede dopo parlami di Dürer che era tedesco e io dico che anche Dürer è bello perché lo sto dicendo vedete come l'argomento madominem crolla subito perché innanzitutto chi lo fa sta presupponendo la malafede tu la malafede la puoi anche presupporre ma la devi provare devi far vedere che c'è questa malafede devi far vedere che quel discorso è sbagliato mi devi dimostrare che Michelangelo non è bello non lo puoi semplicemente dire siccome tu sei italiano non puoi parlare bene di Michelangelo fatemi parlare della politica italiana o dell'accademia italiana e poi e poi mi chiedete se sono svedese una persona onesta cioè si è dimenticato il concetto di persona onesta si è completamente dimenticato si è completamente da questo io non credo poi che le persone ovviamente se voi mi chiedete chiedete personalmente io ritengo che l'antisemitismo sia un morbo dell'intelletto come tanti altri sia un'affezione grave della psiche che impedisce di guardare il mondo di riconoscere le cose nella maniera più oggettiva possibile nella maniera più oggettiva che ci è consentita a noi in quanto umani tempo fa io ricordo vi fu una grossa querelle in Germania perché il vice segretario del partito liberale che si chiamava Rudolf Möllmann scrisse un articolo in cui scriveva peste e corna di un giornalista tedesco che si chiama Friedman e diceva che era un cretino che era queste cose poi aggiunse Friedman è un cretino ebreo io scrissi un articolo su questa questione dicendo se Möllmann avesse scritto che Friedman è un cretino io gli avrei pure dato ragione perché Friedman è un cretino ma non è un cretino perché è ebreo è un cretino perché è un cretino il fatto che tu dica è un cretino ebreo metti nella condizione di non poter più dire che è un cretino questi sono io mi sento anche un po' a disagio a ribadire concetti così elementari così semplici così banali scontati che però quando uno si guarda attorno perché vedete io sono grato a questi contributi online perché attraverso questi contributi riesco ad imparare anche molte cose che non riuscirei ad imparare altrimenti così come i video che uno vede online se voi vedete i suggerimenti che arrivano a me che l'algoritmo decide di mandarmi sul mio tablet sono in genere su youtube suggerimenti di nuovi terrapiattisti perché io amo molto guardare queste cose in quanto si impara di più dalla sciocchezza non di più scusate però si impara dalla sciocchezza tanto quanto si impara dalle cose serie se uno mantiene quello spirito critico è una cosa che invece è saltata completamente per quelli che appunto si lanciano nelle teorie della cospirazione dei protocolli dell'ebreo che regge il mondo ma come se poi io non ho mai capito perché l'ebreo colpisca così tanto capisco l'argomento teologico nel senso la costruzione dei Vangeli è avvenuta in maniera avversa al popolo ebraico perché i Vangeli venivano pubblicati nel mondo romano e ovviamente tu non puoi nel mondo romano diffondere un documento che parli male dell'impero perché sarebbero stati annientati da subito per questo il procuratore romano esce fuori così bene nel libro e tutta la colpa viene data al sinedrio e al popolo ebraico senza poi considerare che il tema di Gesù Gesù è un ebreo che vive in un suo contesto ebraico che il tipo di disputa che lui fa è una disputa ebraica questo non era trasmissibile in documenti scritti in greco per un pubblico delle origini più diverse dunque bisognava creare una storiella in cui l'impero usciva bene e il popolo ebraico usciva male e da lì appunto poi viene tutta la storia del Deicidio tutta quella teologia conseguente a volte anche per paradosso gli ebrei sono anche stati protetti indirettamente ricordo io la storia sull'espulsione degli ebrei dai territori di Spagna Sicilia inclusa quando il Papa prese molti di questi che sfuggivano che scappavano a Roma il Vaticano ha sempre avuto dalla Diaspora in poi dalla distruzione di Gerusalemme in poi ha sempre avuto c'è sempre stato un ghetto a Roma la comunità romana ebraica romana è la più antica della Diaspora perché perché Gesù nei Vangeli dice voi sarete testimoni della mia seconda venuta se non ci sono più ebrei non c'è più seconda venuta dunque questo loop logico ha salvato fortunatamente la vita di molti adesso dico prendersela con gli ebrei come prendersela con cioè da un punto di vista assolutamente razionale come prendersela con quelli che hanno i capelli neri o quelli che appunto vengono dal Gabon o quelli che vengono dalla Norvegia cioè non ha un fondamento razionale come cosa io me la posso prendere con una persona che poi magari incidentalmente è ebreo viene dal Gabon viene dalla Norvegia di nuovo stiamo ribadendo banalità però sono banalità che oggi passano che oggi non si riesce più a ribadire non si riesce più a capire il fatto che l'esempio di cui dicevo prima che Friedman fosse sia un cretino non ha niente a che vedere con il fatto così come se io sono in un modo o in un altro cioè non ha nulla l'attitudine di una persona se io prendo un italiano ed è una brava persona o è un cretino non c'è una relazione con il fatto di essere italiano c'è una relazione in diretta in certi modi di percepire il mondo di vederlo nella cultura chiaramente esistono aspetti culturali ma non hanno a che fare con gli aspetti individuali l'essere cretino è un aspetto individuale non è un aspetto culturale stiamo di nuovo ribadendo cose semplicissime che però sfuggono rimangono è come se stessimo dicendo chissà invece di poter parlare di cose più serie vedete questo è uno dei motivi per i quali come sempre mi trovo in conflitto nel fare questi contributi che hanno anche un carattere che hanno un carattere non soltanto istruttivo ma anche politico perché appunto stiamo qui a perdere tempo a ribadire delle ovvietà che però online sono sommergono il discorso e non soltanto online io ve la prendo moltissimo vedete se una persona di destra tornando sempre ricordando sempre questa fluidità di queste categorie se una persona di destra viene e dice io fa un discorso contro l'ebreo di estrema destra in questo caso capisco che fa parte della sua tradizione del suo discorso concettuale e ovviamente mi oppongo ma quando viene una persona che si dice di sinistra in Italia ci sono esempi ci sono esempi tragici in televisione la televisione come al solito ci sono esempi tragici come questo che fa le vignette come si chiama non lo ricordo comunque un toscano che fa delle vignette ogni tanto in televisione fa questi discorsi io sono comunist io sono questo ed è l'antisemitismo di questa persona è una cosa vergognosa però risulta accettabile ma che se c'è una cosa che qualunque persona di cultura dovrebbe sentire come un grande debito verso l'ebraismo è aver fondato parte della tradizione occidentale la tradizione occidentale è ebraico cristiana con tutto quello che questo significa con categorie che vanno dal pensiero teologico fino a quello filosofico fino alla giurisprudenza di tutto questo qualunque persona accolta dovrebbe essere grata del fatto che è esistita ed esiste nel mondo una tradizione come quella ebraica poi dice ma io ho conosciuto un ebreo che è un cretino e allora io di cretini ne ho conosciuti di tutti i tipi di tutti i paesi tutti i colori tutte le altezze e allora vedete lo so che questo discorso non figuriamoci non ci sono le pretese di poter indirizzare qualcuno che pensa queste cose scombinate questi sono discorsi che si fanno inter nos non rivolti a quelli che sono scombinati come pensare di poter convincere lo sragionamento non si può convincere però c'era una c'è una bella frase di un grande studioso il quale diceva il non senso è non senso ma la storia del non senso è erudizione appunto pensate il tema dell'antisemitismo è una piaga orrenda della storia però la conoscenza di quello che è avvenuto è erudizione anche perché l'antisemita vivendo come tutti coloro che vivono in un mondo immaginario dominato dalla volontà di potenza in questo caso anche dalla rabbia vive in un mondo in cui il reale è determinato da ciò che egli vuole c'è infatti una famosa barzelletta la quale dice per la legge ebraica ebreo e chiunque nasca da madre ebrea per lo stato di israele ebreo e chiunque vada in israele dichiari di essere ebreo questo è uno dei motivi per i quali moltissimi russi riuscirono a scappare dall'ex unione sovietica perché andavano in israele dichiarandosi ebrei pur non essendolo e per l'antisemita invece ebreo è chiunque dica lui è una barzelletta però mostra benissimo perfettamente lo spirito dell'antisemita ma lo spirito anche di chiunque faccia sostituisca il reale con la volontà vedete come se noi togliamo l'aspetto dell'odio e della violenza questo si può applicare benissimo anche a culti a sette religiose si può applicare a ipercredi come la terra piatta o tutte queste altre sciocchezze che si trovano online dunque come sempre come sempre qual è l'antidoto dialogo ragionamento e letture grazie